Bentornati in questo spazio speciale dedicato alle erbe, alle piante, a tutte le loro caratteristiche qualità che possono essere importanti anche per noi per la nostra salute ma soprattutto per il nostro benessere siamo in compagnia di Laura dell'Aquila biologa ed erborista con cui andremo alla scoperta oggi di quale pianta in particolare del cipresso guarda che spettacolo questo è veramente grandissimo enorme ed è proprio generosissimo guarda quanti galboli che sono appunto le sue pignette diciamo i suoi iconi e quindi sì siamo qui proprio per parlare di lui per raccoglierlo poi per fare una preparazione un po particolare questa volta e quindi intanto mentre lo raccogliamo ti volevo raccontare qualcosa su quest'albero perché vedi è appunto appartenente alla famiglia al grande gruppo delle gimnosperme o conifere ed è una pianta quindi sempre verde quindi per gli antichi ha suscitato sempre una grande un simbolismo anche perché sempre verde quindi apparentemente immortale ma anche come forma è una forma che va proprio verso il cielo come se fosse un'antenna che collega la terra con il cielo tant'è che appunto simbolicamente lo troviamo nei tanti luoghi sacri già gli etruschi infatti se va in Toscana proprio delinea gli orizzonti ai confini delle delle montagne delle colline già gli etruschi lo mettevano proprio nei luoghi sacri ancora adesso quando capita di vedere delle colline con dei cipressi probabilmente significa che quello forse anticamente era un luogo sacro da qui poi appunto al passaggio di trovarlo nelle nostre chiese nei nostri cimiteri è molto semplice anche perché poi è associato anche a il regno dei morti i viali infatti sì 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 c'è infatti Ovidio ci narra fra le varie appunto metamorfosi che narra narra di questo giovinetto che si chiamava Kiparisso che girava sempre con un cervo bellissimo che era addornato di ciondoli e tutte le persone che lo incontravano accarezzavano questo cervo e lui erano la stessa cosa un giorno di luglio che era molto caldo mentre questo cervo si era un po' assopito al sole questo ragazzo lancia un giavellotto e uccise il cervo fu così addolorato così addolorato che chiese che volle morire ma chiese però le divinità di essere trasformato in un qualcosa che per sempre potesse ricordare questa simbolo appunto dell'aldilà e del regno di Ade e del regno dei morti che è un po' il cipresso ma dal punto di vista simbolico pianta saturnina legata quindi come archetipo a Saturno se noi lo osserviamo con gli occhi che potevano vedere avevano gli antichi no che non sono gli occhi nostri che sappiamo dei principi attivi delle sostanze contenute ma proprio di quello che analogicamente l'analogia quello che ci rappresenta vediamo che è una pianta che appunto non è come la quercia che si espande ma è una pianta che comunque concentrata e contratta e va appunto verso l'alto quindi ci aiuta a collegarci a una parte spirituale il suo aroma il suo olio essenziale infatti è un aroma molto simile anche all'incenso che purifica purifica a livello fisico ma anche a livello mentale a livello spirituale e le foglie stesse si dice che sono embricate sono minuscole sono messe proprio come a treccia una sopra l'altra quindi tutto molto chiuso no è un movimento concentrato concentrato non espanso ed è appunto l'effetto che poi fa a livello anche fisico infatti noi useremo poi queste coccole questi galboli che sono quelli immaturi quelli appunto ancora freschi non quelli legnosi che fanno cadere i semi contenuti all'interno e li useremo per andare a fare beh te lo dico a questo punto un preparato per vene varicose gambe pesanti e quindi tonico per il sistema circolatorio per le vene quindi molto favorevole in questo caso per noi per la parte femminile sì però che può essere utilizzato da tutti poi perché comunque problematiche di questo tipo possono colpire tutti tutti assolutamente infatti grazie quindi ne abbiamo raccolto qualcuno ne abbiamo a sufficienza sicuramente siamo pronti per spostarci fare qualche passo e arrivare al nostro consueto tavolo da lavoro andiamo andiamo allora siamo nuovamente al nostro tavolo da lavoro con i nostri cestini ricchi perché anche oggi abbiamo raccolto il nostro frutto prodotto come lo possiamo definire beh sai che io sono una botanica quindi sono un po' precisa e pignola sulle parole e quindi in realtà non è un frutto anche se trovi magari lo trovi sempre chiamato frutto e questa qui è una pigna e siamo appunto nella famiglia delle nel grande gruppo delle conifere sono gimnosperme quindi non fanno frutti in realtà sono proprio degli squam delle squame come quelle delle pigne che poi quando sono mature e si aprono lasciano uscire i semi come vedi come vedremo adesso man mano che li lavoriamo perché questi sono i piccoli semi che sono all'interno e che pian piano escono quindi sono delle squame legnose infatti è dura sì e quindi adesso quello che facciamo come ti avevo un po anticipato durante la raccolta è che iniziamo a lavorarle e a pestarle per fare questo questo preparato questo gel fluido è un po una ricetta che anche questa me la sono un po inventata ma alla fine devo dire che pian piano è venuto qualcosa di piacevole che rinfrescante che lavora sui capillari sulle gambe gonfie sulle vene varicose proprio perché questa parte del del cipresso i galbuli del cipresso hanno questa qualità la qualità oltre a essere aromatici balsamici quindi aspettoranti quindi agiscono appunto sul sistema respiratorio ma hanno grazie soprattutto ai tannini in essi contenuti la capacità di andare a lavorare sulla proprio sulla struttura delle vene del sangue del sistema venoso di ritorno andando quindi a combattere arrossamenti capillari vene varicose ristagni magari che ci portano a fine giornata pesantezza le gambe eccetera e quindi come fare per applicarli li puoi mettere nella vasca da bagno puoi fare un decotto e semplicemente fare degli impacchi mi piaceva l'idea di fare un gel un gel però fresco rinfrescante come fare per farlo rinfrescante o lo metti in freezer oppure ci metti qualcosa che rinfreschi in questo caso ho messo il mentolo quindi adesso ti faccio vedere ma visto che è una preparazione un po lunga preferisco però fare un po ho già preparato alcune parti perché altrimenti ti terrei qua lungo ottimizziamo i tempi sempre quindi la prima cosa da fare è quella di pestare in questo caso ho preso proprio dei mortaio un mortaio bello grosso di ferro ne avevamo già preparati un po e ne metto una ventina di questi galbuli nel nostro becker poi per fare il gel sai che si possono usare tante sostanze una di queste sono i semi i semi di lino che contengono nella parte esterna della della loro buccia nella loro parte esterna la mucillagine la mucillagine è un principio attivo che con l'acqua si gonfia e forma il gel che li rende tanto interessanti non solo per fare gel ma anche per andare magari a lavorare su mucose infiammate anche in caso di gastrite intestino perché gonfiano appunto il contenuto intestinale andando a stimolare la peristalza e quindi vengono usati anche come lassativi considerando che ne faremo probabilmente un litro usiamo due cucchiai e a questo punto mettiamo l'acqua questo lo spostiamo acqua quanta facciamo un litro guarda già così è più che sufficiente e lo mettiamo qua bisogna arrivare a bollore mescolare controllare perché appunto il gel si forma col calore per aiutare poi questo questo lavoro ci possiamo anche qui hai visto che molte volte io uso anche un frullatore immersione perché pestarli ridurli in piccole parti non è così facile quindi usiamo appunto un frullatore per fare quest'ultima parte in genere questo poi si fa dopo che è un po' caldo quindi prima aspettiamo che si riscalde un po' il nostro liquido e poi iniziamo a frullare diciamo per i semi di lino non è importante frullare mentre invece per queste possiamo tomare anche coccole e bene perché senti che man mano che le lavoriamo senti che esce fuori questa aroma balsamico è un po' una caratteristica vero di questi lavori man mano che si procede esce la loro identità la loro essenza il loro carattere e proprio grazie in virtù del fatto che c'è questo aroma balsamico così buono possiamo anche semplicemente utilizzarli oltre che per fare un gel anche per fare dei fumenti mettendoli in una pentola con dell'acqua calda facendo bollire classico asciugamano sulla testa e inaliamo perché appunto ha proprio queste aroma che ricorda l'aroma balsamico del pino della bete è una conifera e quindi ha queste proprietà anche balsamiche spettoranti antimicrobiche molto interessanti ma noi adesso appunto vogliamo invece estrarre quello che ci serve per le vene per i capillari e visto che qua andiamo avanti per un po' facciamo il passaggio successivo ok quindi se mi puoi passare quel becker questo l'abbiamo preparato precedentemente e poi se vuoi mi puoi passare anche il collino sì e lo possiamo fare direi qua lo tengo sì grazie iniziamo a passarlo vedrai che qui si è formato il gel quindi farà anche un po' fatica a passare è già abbastanza denso il collino è importante che sia a maglie strette perché altrimenti rischiamo anche di far passare i semi di lino e questo non ci fa molto piacere quindi bisogna avere un po' di pazienza sì perché fa fatica in questo passaggio ma pian pianino passa ecco comincia ecco che andate a passare vedi che sta colando e ha proprio questa consistenza diciamo il colore non è poi così piacevole ma noi che siamo osservati ci interessano soprattutto i principi attivi sapere che questo colore racconta proprio una bella estrazione che abbiamo fatto non è che ha visto soltanto la fotografia dei coni del cipresso ma qui proprio c'è infatti si sente anche dal profumo che emana quindi direi che questo li abbiamo già presi li possiamo se vuoi li puoi mettere lì in questo contenitore così ne prendiamo degli altri ci vuole sempre un po' di pazienza in questi passaggi però è sempre così affascinante ti ricordo che le coccole che raccogliamo questi galbuli, queste pignette devono essere ancora fresche quindi non devono essere secche e il cipresso ne produce in continuazione adesso noi lo facciamo in questa stagione un po' invernale ma può essere fatto anche durante la primavera, l'estate anche perché questa preparazione è quasi più adatta per il periodo estivo mentre invece il suo uso come balsamico, spettorante, antimicrobico va molto bene in questa stagione quindi dobbiamo raccogliere e utilizzarli subito praticamente esatto e devono essere proprio freschi perché poi alcuni possono diventare vedi pian piano si aprono e lasciano uscire i semi che sono all'interno e diventano più legnosi, più duri e quindi non hanno più questo profumo possiamo anche mettere un pochettino di foglie e fra l'altro guarda vedi che il cipresso è come proprio se ci raccontasse anche nella forma delle foglie nella forma dell'albero la sua capacità di essere strutturato di essere contratto non è un qualcosa che si apre, che si espende quindi proprio la capacità di andare a chiudere chiudere anche appunto le pareti venose e infatti si usa anche per l'emorroide questa preparazione in particolare non va bene perché metteremo anche dell'alcol si otterrebbe effetto? potrebbe essere un pochettino fastidiosa ecco, quindi noi possiamo andare avanti così ma a me interessa che farti vedere un po' il procedimento quindi il passaggio successivo una volta che abbiamo ottenuto questo gel è quello di pensare come facciamo per farlo conservare perché se acqua e gel per quanto buono possa essere dopo un po' fermenta un'estrazione in acqua che sia un infuso, una tisana, un decotto come quello che stiamo facendo può durare 24 ore e allora ci mettiamo dell'alcol chiaro che non ne metteremo tanto per non andare a rovinare quindi in genere è sufficiente metterne un 25% quindi si calcola adesso qui magari ne facciamo un altro boccettino per far vedere un po' meglio la versatù questa volta sì, perfetto un po' meglio quello che andiamo a fare però appunto una volta che abbiamo ottenuto un altro po' di liquido andiamo ad aggiungere l'alcol ma prima di aggiungere l'alcol aggiungiamo un'altra chicca che è appunto il mentolo che sono dei sali che si ottengono dall'olio essenziale di menta con un'ulteriore lavorazione e che danno una freschezza incredibile e che appunto sono solubili in alcol perché se li mettessi qua nell'acqua non riuscirei a solubilizzarli questo è un consiglio prezioso è prezioso perché è uno sbaglio che si può fare uno dice aggiungo il mentolo lo metto in acqua invece no, non ti si scioglie quindi adesso aspettiamo che è un po' coli e prepariamo quindi nel becker piccolo che è qua recuperiamo subito esatto mettiamo quindi vediamo un po' più o meno quanto ne abbiamo fatto di questo gel c'è la misurazione vero? qui c'è la misurazione sono per ora 200 quindi veramente possiamo lavorare con poco quindi una 40-50 ml possiamo mettere questo lo possiamo togliere ma lasciamolo colare un altro pochettino che intanto lo prepariamo qua ecco qui mettiamo 50 ml dove andiamo a sciogliere quindi questi cristalli di mentolo senti che profumo che fanno davvero ecco che daranno appunto ulteriormente questa sensazione di freschezza ma ti ricordo che eventualmente possiamo anche metterli in freezer senza aggiungere alcol e mentolo e già tirandoli fuori questi cubetti di ghiaccio che sono gel hanno già la loro funzione in una quantità di genere bastano due cucchiaini di mentolo lo facciamo sciogliere intanto se tu vuoi Claudia puoi provare a fare passare l'ultima parte che è rimasta qua girandolo un po' così e intanto io sciolgo il mentolo bisogna un po' mescolare ci vuole un po' di tempo sì qua c'è ancora poco forse ecco non è importante che i nostri amici se vogliono fare queste preparazioni abbiano questi becker questa attrezzatura vi ricordo come ho sicuramente rifordato altre volte che quando si fanno queste cose vanno benissimo anche le attrezzature di cucina l'importante è lavorare comunque con del vetro e se lo dobbiamo scaldare deve essere un vetro termoresistente il pirex e con l'acciaio sempre meglio evitare delle strumentazioni o delle pentole di alluminio o con degli smalti poi questi sono particolarmente interessanti questi bicchieri che si chiamano becker perché ti danno le misurazioni ma si trovano tranquillamente ok benissimo direi che ci siamo anch'io qua ho sciolto tutto come puoi sentire adesso viene proprio fuori questo profumo meraviglioso e quindi l'alcol va a solubilizzare ancora un po' di più il gel e vedi a questo punto è proprio pronto ed è fatto va mescolato un po' meglio e guarda proprio per accelerare questi passaggi perché questo è un procedimento un po' lungo questo è già fatto perché possono essere messi in contenitori di questo tipo in modo che col beccuccio vuoi provare? certo dai aspetta che c'è la chiusura la chiusura ecco vedi quindi oltre ad avere questa consistenza piacevole e ad agire proprio appunto sui capillari sulle vene anche quindi magari su arrossamenti che possiamo avere perché appunto fa chiudere è centripeto il movimento ti dà anche questa sensazione di freschezza e questo aroma questo profumo caratteristico buonissimo vero? senti come si sta rinfrescando adesso viene proprio può essere utilizzato anche in caso di febbre da mettere sui polsi e sulle caviglie sai abbassa proprio la temperatura benissimo molto piacevole davvero la sensazione sì anche perché guarda fra i vari gel che puoi fare con Xantan e altre Carrageen e altri gel che si usano normalmente per via esterna nella cosmesi secondo me quello dei semi di lino che è molto bistrattato in realtà è il migliore perché penetra completamente senti adesso come è asciutto e non ti lascia nessun tipo di residuo ma questo profumo molto buono anche di mentola e di cipresso insieme è vero grazie su questo profumo buonissimo come sempre ringraziamo Laura dell'Aquila ma grazie a voi e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito arrivederci arrivederci e grazie a tutti e grazie particolarmente a Claudia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti